13. È ormai passato un mese intero da quando ho lavorato per l'ultima volta a queste mie note, iniziate sotto l'influenza di impressioni violente, anche se disordinate. La catastrofe, il cui approssimarsi io avevo presentito, è scoppiata, effettivamente, ma in maniera cento volte più terribile e inattesa di quel che mi aspettavo. Tutto è così strano, deforme e addirittura tragico, almeno per quello che mi riguarda. Mi sono capitati dei fatti addirittura prodigiosi. Perlomeno tali ancora mi appaiono, sebbene a una diversa considerazione, e specialmente giudicando in base al vortice in cui allora mi trovavo preso, potevano anche apparire appena un po' fuori dell'ordinario. Ma la cosa più straordinaria ai miei occhi è il modo in cui io stesso ho reagito a tutti questi avvenimenti. Ancora oggi non riesco assolutamente a capirmi. Tutto è passato rapido come un sogno, e perfino la mia stessa passione, eppure era così forte e autentica, ebbene, dov'è finita adesso? È un fatto che certe volte oggi mi passa per la testa un'idea. Non sarà mica che allora sono diventato pazzo e sono stato rinchiuso per tutto questo tempo in qualche manicomio. E potrebbe darsi che ancora adesso ci sia rinchiuso. Così che mi è soltanto parso che mi sia successo tutto questo, e ancora oggi tutto ciò mi sembra soltanto? Ho raccolto e riletto tutte le mie annotazioni. Chissà, forse le ho buttate giù soltanto per convincermi che non mi trovavo in un manicomio. Adesso mi trovo in completa solitudine. Comincia l'autunno e le foglie ingialliscono sugli alberi. Me ne sto qui, in questa malinconica cittadina. Come possono essere malinconiche le cittadine tedesche? E invece di riflettere al passo che sto per compiere, vivo ancora sotto l'influenza delle trascorse impressioni. Sotto l'influenza di ricordi ancora freschi, e di tutto quel recente turbine che allora mi ha afferrato e mi ha fatto girare vorticosamente per poi ributtarmi a riva. A tratti mi sembra di stare ancora girando in quel vortice, e mi sembra che da un momento all'altro si scatenerà di nuovo la tempesta, e passandomi accanto mi afferrerà con la sua ala, facendomi perdere di nuovo ogni senso della misura e dell'ordine, e io ricomincerò a mulinare, mulinare, mulinare. Del resto può anche darsi che io mi assesti in qualche modo, e che la smetta finalmente di mulinare, a patto che riesca a rendermi chiaramente conto, per quanto è possibile, di tutto ciò che mi è successo in quel mese. Mi è venuta di nuovo voglia di prendere la penna in mano, e poi tante volte la sera non ho nulla da fare. È strano, ma per potermi occupare in qualche modo, mi capita di prendere in lettura dalla misera biblioteca locale, i romanzi di Paul de Kock, in traduzione tedesca, che pure non riesco assolutamente a digerire, li leggo e intanto mi meraviglio di me stesso. È proprio come se temessi, con qualche libro serio o con qualche seria occupazione, di rompere l'incantesimo di tutto ciò che è appena trascorso. Proprio come se mi fossero ormai così tanto cari quel sogno spaventoso e tutte le impressioni che esso ha lasciato dentro di me, e ho perfino paura di sfiorarlo con qualcosa di nuovo per timore che esso si dissolva in fumo. Ma dunque mi è davvero tanto caro tutto questo? Certo che mi è caro, e forse me ne ricorderò ancora tra 40 anni. E così mi metto a scrivere. Del resto tutto questo oggi lo posso raccontare solo in forma parziale e abbreviata. Le impressioni non sono più vive come allora. Per prima cosa concludiamo la storia della nonna. Il giorno seguente lei ha perduto definitivamente tutto, e del resto solo così poteva andare. Quando un carattere come quello si mette su una tale strada, è inevitabile che precipiti sempre più vertiginosamente fino in fondo. Come una slitta dalla cima di una montagna. La nonna ha giocato tutto il giorno fino alle otto di sera, io non ho assistito al suo gioco, e così so soltanto quello che mi hanno raccontato. Potapic le è rimasto vicino tutto il giorno al casino. I polaccucci che consigliavano la nonna si sono alternati più volte in quel giorno. La nonna ha cominciato col cacciar via il polaccuccio del giorno prima, quello stesso che aveva tirato per i capelli, e ne ha preso un altro, ma quest'altro si è rivelato quasi peggiore del primo. Dopo aver scacciato il secondo ed essersi ripreso il primo, che per tutto il tempo del suo esilio era rimasto lì, dietro la sua poltrona, a fare aggomitate tra la folla sporgendo ogni momento il capo fino a lei, la nonna è caduta nella disperazione più completa. Anche il secondo polaccuccio, per quanto l'avesse scacciato, non voleva saperne di andarsene. L'uno le stava alle costole da destra e l'altro da sinistra. Non facevano altro che discutere e ingiuriarsi, a vicenda, tutto il tempo, per le puntate da fare e il modo di giocare, gratificandosi l'un l'altro di Lydak e di altri complimenti del genere in polacco. Poi a un tratto si rappacificavano e puntavano senza nessuna regola, disponendo del denaro a casaccio. Poi litigavano di nuovo e si mettevano a puntare ognuno per conto proprio, per esempio uno sul rosso e l'altro sul nero. È andata a finire che hanno fatto perdere completamente la testa alla nonna, tanto che questa, alla fine, quasi con le lacrime agli occhi, si è rivolta a un vecchio croupier pregandolo di difenderla e di scacciarli. E i polaccucci sono stati effettivamente subito scacciati, nonostante le loro alte strida e le proteste. Essi gridavano tutte e due insieme sostenendo che la nonna era in debito con loro e che anzi era stata lei a ingannarli comportandosi con loro in modo vile e disonesto. È stato il povero Potapic a raccontarmi tutto questo con le lacrime agli occhi, la stessa sera in cui la nonna aveva perduto tutto e accusava i polacchi di essersi riempiti le tasche di soldi, dicendo che li aveva visti lui stesso derubare impunemente la povera vecchia, cacciandosi a ogni momento del denaro in tasca. Uno di loro, per esempio, chiedeva alla nonna cinque federici per le sue fatiche e cominciava a puntarli accanto alle puntate della nonna. La nonna vinceva e lui si metteva a gridare che era la sua puntata ad aver vinto, mentre la nonna aveva perso. Quando li hanno buttati fuori, Potapic è intervenuto e ha riferito che quei signori avevano le tasche piene d'oro. La nonna allora ha chiesto al croupier di prendere dei provvedimenti e per quanto i due polaccucci gridassero come due galletti presi al laccio, è arrivata subito la polizia che ha vuotato loro le tasche restituendo alla nonna il maltolto. Finché non ha perduto tutto, la nonna ha goduto per tutto quel giorno di evidente autorità presso i croupier e presso la direzione del casino. A poco a poco la sua fama si era sparsa per tutta la città. Tutti gli ospiti della stazione termale, d'ogni nazione, d'ogni ceto, dalla gente comune a quella d'alto rango, affluivano nel casino per vedere une vieille comtesse russe tomber en enfance, che aveva già perduto alla roulette qualche milione. Ma la nonna aveva guadagnato molto poco dal fatto di essere stata liberata da quei due polaccucci. A loro posto si è subito presentato e si è messo ai suoi servizi un terzo polacco. Questo parlava il russo perfettamente, vestito come un vero gentiluomo, ma che aveva ugualmente un'aria dalla che, nonostante i suoi enormi baffi e tutto il suo sussiego. Anche questo baciava i piedini della signora e si prosternava ai piedini della signora, ma con gli altri si comportava con arroganza, disponeva dispoticamente di tutto e insomma si è atteggiato subito non a servo, bensì a padrone della nonna. A ogni momento e a ogni proposito si rivolgeva alla nonna giurando e spergiurando con i giuramenti più solenni che lui era un uomo d'onore e che non avrebbe toccato neanche una copeca dei denari della nonna. Ripeteva così spesso quei suoi giuramenti che alla fine la nonna ha preso davvero paura. Ma siccome, almeno all'inizio, sembrava che quel signore fosse riuscito ad assestare il gioco della nonna e anzi aveva cominciato a vincere qualcosa. Era ormai la nonna stessa che non poteva staccarsi da lui. Un'ora dopo i polaccucci di prima, che erano stati scacciati dal casinò, si sono presentati di nuovo alla poltrona della nonna, tornando a offrirle i loro servigi, magari per delle commissioni. Potapic giurava che quell'uomo d'onore scambiava con i polaccucci degli ammiccamenti d'intesa e passava loro perfino qualcosa. Siccome la nonna non aveva pranzato e non si era mossa dalla sua poltrona, uno di quei polaccucci è tornato effettivamente utile. Infatti è corso per lei nella sala da pranzo lì accanto e le ha portato una tazza di brodo e poi anche del tè. Anzi, ci sono andati tutti e due. Ma verso la fine della giornata, quando ormai era chiaro per tutti che la nonna stava perdendo la sua ultima banconota, improvvisamente si sono presentati dietro la sua poltrona ben sei polaccucci, che fino a quel momento non si erano visti né sentiti. Quando poi la nonna perdeva ormai le sue ultime monete, tutti quei signori non soltanto non li obbedivano più, ma neppure si accorgevano di lei. Le passavano tranquillamente davanti per arrivare al tavolo da gioco. Arraffavano loro stessi i soldi. Loro stessi decidevano e puntavano, discutevano e gridavano. Trattavano con l'uomo d'onore con la massima familiarità e quello, da parte sua, sembrava addirittura essersi dimenticato dell'esistenza della nonna. Perfino quando la nonna, avendo perduto fino all'ultimo soldo, se ne tornava verso le otto all'albergo, tre o quattro di quei polaccucci non volevano decidersi a lasciarla e continuavano a correre ai fianchi della sua poltrona, gridando con quanta ne avevano in canna e assicurando, con una parlantina inesauribile, che la nonna li aveva ingannati e che doveva dar loro qualcosa. E sono arrivati così gridando fino all'albergo, da dove li hanno cacciati fuori a spintoni. Secondo i calcoli di Potapic, la nonna aveva perduto quel giorno circa 90.000 rubli, oltre a quelli perduti il giorno prima. Aveva cambiato e perduto l'uno dietro l'altro tutti i suoi buoni del prestito nazionale al 5% e tutte le azioni che aveva preso con sé. Mi stupivo che fosse riuscita a resistere per sette o otto ore di fila senza muoversi da quella poltrona e senza quasi mai staccarsi dal tavolo, ma Potapic mi ha raccontato che per tre o quattro volte la nonna aveva cominciato a vincere parecchio e riafferrata dalla speranza non aveva potuto risolversi ad andarsene. Del resto i giocatori sanno bene che si può resistere addirittura per 24 ore di seguito con le carte in mano, senza neanche gettare un'occhiata a destra o a sinistra. Nel frattempo, in quello stesso giorno, anche nel nostro albergo si svolgevano degli avvenimenti decisivi. Già al mattino prima delle undici, quando la nonna era ancora all'albergo, i nostri, e cioè il generale Edegriot, si erano decisi a un ultimo passo. Avendo saputo che la nonna non pensava nemmeno a partire, ma al contrario intendeva tornare al casino, essi, in gruppo compatto, eccettuata Polina, si sono recati nel suo appartamento per avere con lei una spiegazione definitiva e perfino aperta. Il generale, tremando e rapprevidendo in fondo all'anima nella previsione delle terribili conseguenze che tutto ciò avrebbe avuto per lui, ha finito per esagerare. Dopo aver pregato e supplicato per mezz'ora, dopo aver addirittura sinceramente confessato tutto, e cioè tutti i suoi debiti e perfino la sua passione per Mademoiselle Blanche, aveva completamente perduto la testa, ha improvvisamente assunto un tono minaccioso e si è messo addirittura a gridare e a battere il piede contro la nonna. Gridava che lei svergognava il buon nome della famiglia, che era diventata la favola della città e infine, infine, lei infanga il nome della Russia. Signora, ha gridato. E per questo c'è la polizia! Alla fine la nonna l'ha scacciato col bastone, con un vero bastone. Il generale e De Grio hanno tenuto consiglio ancora un paio di volte quella mattina, per studiare se non fosse possibile far intervenire in qualche modo la polizia. Si poteva dire, per esempio, che un'infelice ma rispettabile vecchia era uscita di cervello, perdeva al gioco le sue ultime sostanze e così via. In una parola non si sarebbe potuto metterla sotto tutela o farla interdire? Ma De Grio non faceva altro che stringersi nelle spalle e ridere in faccia al generale, il quale, per parte sua, aveva perso la tramontana e diceva cose senza senso camminando su e giù per lo studio. Alla fine De Grio ha avuto un gesto di stizza e si è eclissato. A sera si è venuto a sapere che aveva abbandonato l'albergo, dopo aver avuto un colloquio evidentemente risolutivo e strettamente riservato con Mademoiselle Blanche. Per quanto riguarda la stessa Mademoiselle Blanche, fin dal mattino essa aveva preso delle misure radicali. Aveva definitivamente respinto il generale e non gli permetteva nemmeno di presentarlesi davanti. Quando il generale le era corso dietro fino al casino, dove l'aveva incontrata a braccetto con il principino, tanto lei che Madame Veuve Cominge avevano fatto finta di non conoscerlo. E neppure il principino l'aveva salutato. Per tutto quel giorno Mademoiselle Blanche si è lavorata il principe, tentando in tutti i modi di indurlo a pronunciare una parola definitiva. Ma, ahimè, essa si era crudelmente ingannata nei suoi calcoli su di lui. Del resto, quella piccola bufera si è risolta la sera stessa. A un tratto si è venuto a sapere che il principe era povero in canna e che anzi contava su Blanche per farsi imprestare su cambiale dei soldi per giocare alla roulette. Sdegnata, Blanche l'ha scacciato e si è chiusa nella sua stanza. Al mattino di quello stesso giorno io ero stato da Mr. Astley, anzi, per meglio dire, avevo speso tutta la mattina a cercarlo, senza poterlo trovare. Non era né in casa, né al casino, né al parco. Quel giorno non aveva nemmeno pranzato all'albergo. Dopo le quattro lo scorto a un tratto che si dirigeva a piedi dalla stazione ferroviaria direttamente all'hotel d'Angleterre. Andava di fretta e sembrava molto preoccupato, anche se era difficile leggere la preoccupazione o un qualsiasi turbamento di qualsiasi genere sul suo viso. Mi ha teso cordialmente la mano con la sua solita esclamazione, ma senza fermarsi e anzi proseguendo la sua strada a passo piuttosto frettoloso. Mi sono messo ad accompagnarlo, ma lui rispondeva in una maniera così evasiva che non sono riuscito a fargli nessuna domanda concreta. Per giunta, chissà perché, mi vergognavo terribilmente a portare il discorso su Polina e lui, d'altronde, non ne faceva parola. Gli ho raccontato della faccenda della nonna, lui mi ha ascoltato con aria seria e attenta e si è stretto nelle spalle. «Perderà tutto», ho osservato. «Oh sì», ha risposto lui. «E' andata a giocare poco fa, mentre io stavo partendo, e pertanto sapevo con sicurezza che avrebbe perso tutto. Se ne avrò il tempo, passerò al casino a dare un'occhiata, perché la cosa mi incuriosisce. Dove è stato?» Ho chiesto, stupito io stesso di non averglielo domandato già prima. «A Francoforte». «Per affari?» «Sì, per affari». Che cos'altro potevo chiedergli? Comunque continuavo a tenergli dietro. Quando a un tratto lui ha svoltato verso l'albergo «De quatre saisons» che si trovava lì sulla strada. Mi ha fatto un cenno del capo e si è eglissato. Tornandomene a casa ho capito a poco a poco che se ne avessi parlato con lui per due ore filate non sarei comunque venuto a sapere assolutamente nulla, perché non avevo nessuna domanda da fargli. «Sì, era proprio così. In quel momento non sarei stato assolutamente capace di formulare nessuna domanda». Per tutto quel giorno Polina è andata a passeggio con i bambini e la bambinaia nel parco o è rimasta a casa. Da un pezzo lei evitava il generale e con lui non parlava quasi mai di nulla, o perlomeno di nulla di serio. Da un pezzo me ne ero accorto. Ma sapendo in che condizioni si trovava il generale quel giorno, ho pensato che egli non avrebbe potuto fare a meno di incontrarla e che cioè tra di loro si sarebbe dovuta svolgere una qualche importante spiegazione sugli affari di famiglia. Tuttavia, quando rientrando in albergo dopo la chiacchierata con Mr. Astley, ho incontrato Polina con i bambini, ho letto sul suo viso la più inalterabile serenità. Proprio come se tutte le tempeste di famiglia le fossero passate accanto senza toccare lei sola. Al mio inchino ha risposto con un cino del capo. Sono rientrato in camera mia infuriato. Naturalmente evitavo di parlare con Polina e non mi ero trovato con lei neppure una volta dopo la storia con i Wurmerelm. Così facendo mi rendevo in parte conto di fare il sostenuto e di posare un po'. Ma più passava il tempo, tanto più sentivo ribollire dentro di me un'autentica indignazione. Mi sembrava che anche se Polina non mi amava affatto, non avesse comunque il diritto di calpestare a quel modo i miei sentimenti e di mostrarsi completamente indifferente alle mie dichiarazioni. Eppure lei sapeva che io la amavo veramente e del resto lei stessa mi aveva permesso di parlarle a quel modo. È vero che tra noi la cosa era cominciata in modo piuttosto strano. Da qualche tempo, anzi da un pezzo forse, da due mesi, mi ero accorto che lei aveva l'intenzione di fare di me il suo amico e il suo confidente e anzi in parte ci aveva già provato. Ma per qualche ragione ciò non le era riuscito e così tra noi erano rimasti in essere dei rapporti un po' strani. Per questo io avevo cominciato a parlare così con lei. Ma se il mio amore le dava così fastidio, perché non mi proibiva semplicemente di parlarne. Non solo non me lo impediva, ma certe volte portava lei stessa il discorso su quell'argomento e naturalmente lo faceva per deridermi. So con certezza, me ne sono assicurato al di là di ogni dubbio, che le faceva piacere, dopo avermi ascoltato e avermi lasciato esaltare fino alla sofferenza, sconcertarmi con qualche uscita improvvisa che dimostrava tutta la sua assoluta indifferenza e il suo disprezzo. Eppure lei sapeva che non potevo vivere senza di lei. Erano passati solo tre giorni dalla storia con il barone e io non potevo già più sopportare il nostro distacco. Quando l'avevo incontrata poco prima al casino, il cuore mi si era messo a battere così forte che ero impallidito. Eppure neanche lei poteva vivere senza di me. Io le ero indispensabile. Ma forse, forse soltanto com'è indispensabile il buffone Balakiriev. Lei aveva un segreto, questo era evidente. Il suo colloquio con la nonna mi aveva dolorosamente colpito al cuore. Eppure io lo avevo esortata mille volte a essere franca con me. E lei sapeva benissimo che io ero veramente pronto a dare la vita per lei. Ma lei ogni volta si liberava di me quasi deridendomi. Oppure invece del sacrificio della vita che io le offrivo, esigeva da me delle sciocche stravaganze, come quella volta col barone. Non era forse disgustoso tutto ciò. È possibile che quel francese fosse per lei più importante di ogni cosa al mondo. E mister Astley? A questo punto poi la faccenda diventava assolutamente incomprensibile. E intanto, Dio come mi tormentava tutto ciò. Arrivato a casa, in un accesso di furore, ho afferrato la penna e ho buttato giù queste righe. Polina Alexandrovna. Vedo chiaramente che siamo arrivati a uno scioglimento che probabilmente implicherà anche lei. Glielo ripeto per l'ultima volta. Le occorre o no la mia vita? Se le potrà servire per qualsiasi cosa, ne disponga pure. Intanto resterò nella mia stanza, almeno per quasi tutto il tempo, e non andrò da nessuna parte. Se avrà bisogno di me, mi scriva o mi faccia chiamare. Ho suggelato il biglietto e l'ho affidato all'acchè di corridoio, con l'ordine di consegnarlo direttamente nelle mani di Polina. Non aspettavo risposta. Ma tre minuti dopo, il l'acchè era di ritorno riferendo che la signorina aveva ordinato di forgere i suoi saluti. Tra le sei e le sette mi hanno chiamato da parte del generale. Il generale si trovava nel suo studio, vestito come se stesse per uscire. Il cappello e il bastone gecevano sul divano. Entrando nello studio, l'ho visto piantato in mezzo alla stanza, a gambe larghe, con la testa abbassata sul petto, e mi è sembrato che parlasse ad alta voce tra sé. Ma non appena mi ha scorto, si è gettato su di me quasi gridando, tanto che io ho fatto involontariamente un passo indietro come se volessi scappare. Lui però mi ha afferrato per tutte e due le mani e mi ha trascinato verso il divano. Quindi si è seduto sul divano, mi ha fatto sedere in una poltrona proprio davanti a lui, e senza lasciarmi le mani, con le labbra tremanti e le lacrime che improvvisamente gli hanno inumidito le ciglia, mi ha detto con voce supplichevole, Alexei Ivanovic, mi salvi, mi salvi, abbia misericordie. Per un pezzo non son riuscito a capire cosa volesse. Non faceva che parlare e parlare ripetendo, abbia misericordia, abbia misericordie. Finalmente ho indovinato che lui aspettava da me che in qualche modo lo consigliassi, o per dir meglio, abbandonato da tutti, in preda all'inquietudine e all'angoscia, si era ricordato di me e mi aveva fatto chiamare per parlare e parlare. Era quasi impazzito, o perlomeno completamente smarrito. Giungeva le mani ed era pronto a gettarsi ai miei piedi, per scongiurarmi, chi l'avrebbe mai immaginato, di andare immediatamente da Mademoiselle Blanche, per pregarla e convincerla a tornare da lui e sposarlo. Mi scusi, generale, ho esclamato, ma Mademoiselle Blanche con tutta probabilità non si è nemmeno accorta della mia esistenza, e quindi cosa posso fare io? Ma era inutile provarsi a contraddirlo. Non capiva quel che gli si diceva. A un certo punto si è messo a parlare anche della nonna, ma in modo terribilmente slegato. Era sempre dell'idea che bisognasse rivolgersi alla polizia. «Da noi, da noi!» ha cominciato a un tratto a gridare, ribollendo d'indignazione. «In una parola, da noi, nel nostro stato saggiamente amministrato, dove c'è l'autorità, vecchie come queste le metterebbero subito sotto tutela. Già, egregio signore, già!» ha continuato a dire ricadendo improvvisamente nel tono a monitore, saltando su da sedere e mettendosi a camminare su e giù per la stanza. «Lei forse questo ancora non lo sapeva, egregio signore!» e così dicendo si rivolgeva a un qualche immaginario egregio signore, seduto là, nell'angolo. «E così adesso lo saprà. Vecchie come queste, da noi, le domano. Le riducono docili come agnellini. Già, che il diavolo se le porti!» Quindi tornava a buttarsi sul divano, ma già un istante più tardi, quasi singhiozzando e ansimando, si affrettava a raccontarmi che Mademoiselle Blanche non voleva più sposarlo, perché invece del telegramma era arrivata la nonna e quindi adesso era chiaro che egli non avrebbe avuto l'eredità. In quel momento si immaginava forse che io non sapessi nulla di tutto questo. Ho cominciato a parlare di De Grio, ma il generale mi ha interrotto con un gesto. «È partito! Gli ho dato impegno a tutti i miei averi. Sono nudo come un verme. Quel denaro che lei ha portato, quel denaro, io non so nemmeno quanto ne sia rimasto. Forse 700 franchi e basta, è tutto quel che c'è. E poi, poi non so, non so!» «Ma come pagherà l'albergo?» Ho esclamato io spaventato. «E poi cosa sarà?» Lui mi ha guardato pensieroso, ma mi sembrava che non capisse nulla e probabilmente non mi sentiva neppure. Ho provato allora a portare il discorso su Polina Alexandrovna e sui bambini, ma lui rispondeva in fretta «Già, già!» Ma poi si rimetteva subito a parlare del principe, del fatto che ora Blanche sarebbe partita con lui e allora «Ma cosa devo fare, Alexia Ivanovich?» Tornava improvvisamente a rivolgersi a me. «In nome di Dio cosa devo fare? Lo dica lei stesso! Non è nera ingratitudine questa?» E alla fine si è sciolto in un torrente di lacrime. Non c'era nulla da fare con un uomo ridotto in quello stato e del resto era anche pericoloso lasciarlo solo. Poteva darsi che gli succedesse qualcosa. Alla fine comunque me ne sono liberato in qualche modo, ma ho dato istruzione alla bambinaia perché andasse a dargli un'occhiata di tanto in tanto. Inoltre ho detto due parole all'achè di corridoio, un ragazzo molto sveglio, che per parte sua mi ha promesso anche lui di tenerlo d'occhio. Avevo appena lasciato il generale quando si è presentato Potapic che veniva a chiamarmi da parte della nonna. Erano le otto e la nonna era appena tornata dal casino dopo l'ultima e definitiva perdita. Sono andato da lei. La nonna se ne stava seduta in poltrona in atteggiamento profondamente afflitto e chiaramente sofferente. Marfa le aveva portato una tazza di tè che le faceva bere quasi per forza. Anche il tono di voce della nonna era profondamente mutato. Buongiorno babbino Alexie Ivanovic. Mi ha preso a dire lentamente e gravemente la nonna chinando il capo. Mi perdoni se la disturbo ancora una volta, sia indulgente con una povera vecchia. Io, padre mio, ho lasciato là tutto, quasi centomila rubli. Avevi ragione tu quando ieri non hai voluto accompagnarmi. Adesso sono rimasta senza denari. Non ho neanche un soldo. Non voglio più perdere neanche un minuto. Partirò alle nove e mezzo. Ho mandato a chiamare quel tuo inglese, Astre o come si chiama, e voglio chiedergli tremila franchi in prestito per una settimana. Cerca tu di persuaderlo. Perché non gli venga qualche dubbio e non me li rifiuti. Io, padre mio, sono ancora abbastanza ricca. Ho tre villaggi e due case e posso ancora trovare del denaro. Non l'avevo mica preso tutto con me. Dico questo perché lui non dubiti che... Ah, eccolo qui. Si vede proprio che è una brava persona. Mr. Astley si era affrettato a venire alla prima chiamata della nonna. Senza starci a pensar su un istante e senza dire una parola di troppo. Ha tirato fuori tremila franchi e li ha consegnati alla nonna, dietro una cambiale che questa gli ha firmato. Ci ho fatto, si è inchinato e si è affrettato a uscire. E ora vattene anche tu, Alexia Ivanovic. È rimasta poco più di un'ora e voglio stendermi un po' perché mi dolgono le ossa. Abbi un po' di indulgenza per questa povera vecchia. Ormai non accuserò più i giovani di leggerezza. E quanto a quel vostro generale, povero disgraziato. Ora mi vergogno di avergli gridato la croce addosso. Denaro tuttavia non gliene darò, come lui vorrebbe, perché secondo me è proprio uno sciocco. Purtroppo sono anch'io una vecchia sciocca e certo non sono più savia di lui. È proprio vero che il Dio ti punisce anche nella vecchiaia e ti fa espiare l'orgoglio. Beh, ora addio. Marfuga, tirami su. Io comunque volevo accompagnare al treno la nonna. Inoltre mi trovavo in un certo stato di eccitazione come se mi aspettassi continuamente che da un momento all'altro dovesse succedere qualcosa. Non riuscivo a restarmene nella mia stanza. Ogni tanto uscivo in corridoio e me ne sono andato perfino a fare due passi sul viale. La lettera che avevo mandato a Polina era chiara e decisa e la catastrofe che si stava preparando sarebbe stata certamente quella definitiva. In albergo avevo sentito dire della partenza di De Grio. In fin dei conti, pensavo tra me, se mi rispinge come amico forse almeno come servo mi accetterà. Le sarò utile almeno per delle commissioni. Ma certo che le tornerò comodo, e come no. All'ora della partenza del treno sono corso alla stazione e ho aiutato la nonna a salire. Si sono accomodati tutti quanti in uno scompartimento riservato per famiglie. Grazie a te, babbino, mi ha detto la nonna salutandomi. Grazie per il tuo aiuto disinteressato. Rammenta a Prascovia ciò che le ho detto ieri. Dille che la aspetterò. Sono tornato all'albergo. Passando davanti alla porta del generale, ho incontrato la bambinaia e le ho chiesto come stava il padrone. Beh, non c'è male, babbino, ha risposto quella in tono dimesso. Stavo comunque per entrare, ma sulla porta dello studio mi sono arrestato in preda a un vero sbalordimento. Mademoiselle Blanche e il generale ridevano sgangheratamente di qualcosa. C'era anche la Veve Cominge seduta sul divano. Il generale evidentemente era fuori di sé dalla gioia. Balbettava sciocchezze d'ogni genere e si abbandonava a un lungo riso nervoso che gli copriva tutto il viso di innumerevoli rughe, in cui gli occhi quasi si perdevano. In seguito ho saputo dalla stessa Blanche che lei, scacciato il principino, aveva saputo che il generale stava piangendo e le era venuto in mente di passare a consolarlo per un minuto. Ma il povero generale non sapeva che in quel momento il suo destino era segnato. E Blanche aveva già cominciato a fare le valigie e sarebbe partita per Parigi la mattina dopo col primo treno. Dopo essermi soffermato per qualche istante sulla soglia dello studio, ci ho ripensato e, invece di entrare, me ne sono andato senza che nessuno mi notasse. Poi sono salito fino al terzo piano e ho aperto la porta della mia stanza. Nella semi-oscurità ho scorto a un tratto una figura umana seduta su una sedia nell'angolo accanto alla finestra. La figura non si è alzata al mio ingresso. Mi sono accostato in fretta e l'ho guardata e a un tratto mi si è mozzato il respiro. Era Polina. quattordici. Ho gettato un grido dalla sorpresa. Cosa c'è? Cosa c'è? Ha chiesto Polina in un certo tono strano. Era pallida in viso e aveva lo sguardo torbido. Come cosa c'è? Lei qui, in camera mia. se vengo, vengo tutta. Tale è la mia abitudine. Del resto lo vedrà subito.